Nell'ambito del nuovo progetto sicurezza una delle iniziative è quella delle assicurazioni contro i furti per i danni da furti e da effrazione. L'amministrazione comunale farà da tramite tra una compagnia assicurativa che verrà individuata dal broker incaricato dal Comune e i cittadini per la stipula di una assicurazione per i danni da furti e da effrazioni. Ovviamente in questa fase stiamo raccogliendo le preadesioni. Sul sito del Comune si può trovare il modulo per le preadesioni da compilare e poi da consegnare presso lo sportello del cittadino. Più massa critica ci sarà e più c'è la possibilità che le condizioni che abbiamo proposto attraverso il broker alle compagnie assicurative vengano accettate. Se si riesce a raggiungere qualche centinaio di adesioni iniziali riusciremo a strappare il prezzo di favore di 25 euro all'anno per la politica assicurativa per avere poi dei risarcimento che vanno dai 2.500 ai 5.000 fino ai 10.000 euro di risarcimento in caso di furto nell'abitazione. Invitiamo quindi i cittadini a intanto manifestare la preadesione a questa iniziativa e poi quando verrà individuata la compagnia assicurativa liberamente potranno decidere e scegliere se aderire o meno e firmare il contratto di assicurazione.